buon pomeriggio amici oggi vi porto con me ad esplorare il mio blog letterario su blogger e praticamente vi mostro la recensione che ho scritto per un libro di poesie che ho letto il libro si intitola con la poesia riaffiora l'anima ed è stato scritto dalla bravissima poetessa marisa rituccia tu mia come potete vedere questa è la copertina ha uno sfondo rosa è bellissima e ora vi mostro la recensione per quanto riguarda la scheda tecnica del libro quindi il genere lo avete capito è una raccolta di poesie l'edizione è edita da book sprint edizioni l'anno di pubblicazione è il 2021 il prezzo è 17 euro e 90 il libro è acquistabile su tutti gli store online mondatori bs feltrinelli amazon e sul sito di book sprint la recensione a cura di la vigna magnotta scrittrice book blogger sono io allora ho letto questo libro in pochi giorni e mi è piaciuto molto l'autrice racconta la vita attraverso poesie e immagini emozionanti è un'opera coraggiosa fortemente originale ed esprime la sensibilità poetica di una donna che sa coniugare in versi la bellezza della natura la semplicità dei sentimenti d'amore e la purezza delle piccole grandi cose io credo che la poesia debba toccare con delicatezza le emozioni e penso che marisa tumia abbia un'anima delicata come le sue parole assegno a questo libro 5 stelle e consiglio a tutti di acquistarlo